Nella giornata la diciannovesima in cui a Santo Stefano il Magrazzurri in rimonta batte per 2-1 l'intercomunale Beverino. A questo match si riferiscono queste immagini causandone l'uscita dalla zona play-off nel girone B del campionato di promozione Ligure. In tale zona play-off si conferma in pieno invece il Don Bosco che riesce a pareggiare per 1-1 in casa del Molassana a Boero nonostante più di un intralcio a cominciare dall'espulsione dopo un quarto d'ora del portiere Greci. Per il resto pareggio nel derby provinciale sul campo del Levanto tra quest'ultimo e la Taros sardanese per 1-1. Ok il canaletto Sepor che si impone per 3-0 a Rapallo sulla Ruentes rivarolese con doppietta di Marte Rosario. Infine e a tale incontro passiamo con le riprese venendo alla pieve un po' sconcertante forse il Cadimare che nello scontro diretto in zona play-out con Little James al punto al Pieroni. Chiude il primo tempo in vantaggio di due reti, si vede qua peraltro quella di Luca Corvi però poi la partita finisce 2-2. Per la cronaca in testa c'è il Bogliasco da solo. Cambiando di categoria venendo alla prima a Girone E e con le immagini al Festival del Gol che per 3-2 all'incerti di Ceparana si è risolto a favore del Colli Ortonovo a svantaggio appunto dei Ceparanesi. Ivi al comando c'è il Brugnato che per 1-0 si impone sul proprio campo all'Arcola Garibaldina. Infine rapidissimo flash sul girone F della seconda categoria dove comanda Lario Maior ma queste riprese si riferiscono al derby a Falconara tra la Sant'Erenzina B vittoriosa per 6-2 e il Lerici ma al di là del risultato ciò che ha colpito è stata l'intensità del tifo da parte di entrambe le tifoserie.